Sto studiando. Silenzio. Sto scherzando, scherzo, scherzo. Scherzo sempre. Allora, il 12 settembre, corso base Aio Estensio, qui in via di Torbergata 39A da MTC Parrucchieri, andiamo a realizzare un corso base per i giovani che desiderano imparare o apprendere l'estension. Questo è l'evento che andrò a realizzare lunedì 12 settembre, seminario perché si affaccia per la prima volta al mondo dell'estension e quindi andiamo a curare un po' la base delle station di quello che è la filosofia estensore group. Nella prima sessione si tratta della filosofia estensore group, le tecniche e gli strumenti operativi. Nella seconda parte, su una testa modello, andremo a montare delle sciocche, tutto visionato dal personale di formazione. A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione di estensore group e gli argomenti trattati sono il cambiamento di costume, il valore dei capelli nella storia e l'era informatica. L'era informatica che ci sta stravolgendo a tutti quanti, ci sono lavori che nascono e lavori che muoiono. Il parrucchiere nell'ambito allungamento dei capelli deve acquisire nuove competenze per operare al meglio. Per questo ci sono gli aspetti psicologici, l'iniziazione, il linguaggio del corpo e la somatizzazione. Ci sono i quattro aspetti della filosofia dove ruota tutta la riuscita di un lavoro di estensio e quindi sarà veramente un corso interessante che ti cambierà. Poi abbiamo nella seconda sessione le fasi per il montaggio sciocche, lo stato fisico della materia, andremo a vedere la fluidificazione, la solidificazione del polimero, come funziona, eccetera. e andremo all'analisi di montaggio fondamentale, quanti capelli una persona deve per avere un'estensione fluida e che si sposa bene madre e figlio. Questa è molto importante ma esercitandosi poi studiare la tecnologia applicativa degli inserti base, che ci sono due tipi, ciocca cilindro e la ciocca piatta. Il 12 settembre contattatemi sui contatti nella descrizione del video, seguite il canale YouTube, attivate la campanella per avere altre informazioni e ci vediamo alle prossime. Ciao!